Una preghiera comune per la pace ha concluso l'incontro in Vaticano tra Papa Francesco e il cattolicos Marge Varghis III, patriarca della Chiesa Siera dell'Oriente. Una pace che tarda ad arrivare in Medio Oriente, ma tra tanto dolore, ci sono cristiani che, ha detto il Papa, percorrono la via della croce, seguendo con mitezza le orme di Gesù. Fratelli e sorelle che ci esortano in ogni circostanza a rimanere col Signore, ad abbracciare la sua croce, a confidare nel suo amore, che ha riconciliazione e perdono, sconfiggendo così l'inimicizia. Il sangue dei martiri, ha ribadito Papa Francesco, è il seme dell'unità dei cristiani. Esso ci chiama a spenderci con carità fraterna per la comunione. Siamo infatti costernati per quanto continua ad accadere in Medio Oriente, specialmente in Iraq e in Siria. Lì si riversa su centinaia di migliaia di bambini innocenti, di doni e di uomini, la violenza terribile, di sanguinosi conflitti, che nessuna motivazione può giustificare o permettere. Lì i nostri fratelli e sorelle cristiani, nonché diverse minoranze religiose e etniche, sono purtroppo abituati a soffrire quotidianamente grandi prove. Ricordando i passi avanti fatti insieme sulla strada dell'unità, il Papa ha ribadito l'importanza di lavorare insieme nella carità che ricompone le fratture e sana le lacerazioni, ma anche sul fronte dell'evangelizzazione, per aprire sentieri fecondi di comunione e di testimonianza e arrivare un giorno ad una piena comunione ecclesiale. Nel suo discorso, il cattolicos Marge Varghis III ha suggerito la convocazione di un raduno internazionale di tutti i patriarchi e primati delle chiese apostoliche per capire le ragioni di tanta violenza nella regione medio orientale.